Un entusiasmante mix di bottoni, fiamme e stoppini per ottenere un titolo 2800 da lavorare alla macchina 3. Costruito con fibre di maggioranza certificate GRS, questo filato dal piglio aggressivo si connota come uno fra i più utilizzati per colpire una clientela attenta alla moda e all'ecosistema. Lo stile saprà valorizzare sicuramente le sue caratteristiche, usandolo da solo come proposta innovativa o dosandola all'interno di lavorazioni che ne esalteranno la qualità. Propone una cartella in cui si spazia da colori in tonalità a colori multicolor per accontentare i diversi gusti della clientela. Sono segnalati i colori sempre pronti per campionatura, per gli altri sono sufficienti ordini di chilogrammi 10.